a cena con un mago ai miei tempi ho consumato pasti alquanto strani io potrei raccontarvi di un pranzo fatto in una miniera o della cena avuta con un milionario ma credo che il racconto che vi piacerà di più sia quello della cena avuta una volta con un mago quando conobbi il signor cadabra non immaginavo davvero che fosse un mago stavo attraversando una strada affollata un certo pomeriggio quando vidi un ometto che sorpassandomi di corsa stava per essere investito da una macchina se non lo avesse afferrato per il bavero del cappotto l'automobile lo avrebbe certamente travolto riconoscente l'uomo volle invitarmi a cena con lui e fissammo un giorno della settimana seguente non notai niente di strano in lui allora eccetto che aveva due grosse orecchie con in cima due ciuffetti di pelo così la sera fissata mi avviai all'appuntamento non voglio dirvi dove perché se lo facessi voi andreste a disturbarlo e lui ne sarebbe molto irritato e magari vi farebbe diventare un orecchio grosso come una foglia di cavolo o scambierebbe il vostro piede destro con quello sinistro bussai a una porta dall'aspetto molto comune ma una volta entrato mi trovai in una delle stanze più curiose che avessi mai visto c'erano due tavoli uno di rame con sopra un globo di cristallo l'altro un solido blocco di legno aveva tutt'attorno dei grossi buchi per infilarci le ginocchia davano luce due piante che crescevano in un vaso non erano lampadine elettriche infatti ne toccai una ed era fresca e morbida le pareti invece che con la carta da parati erano ricoperte da tende ricamate con disegni di gente e di animali solo che erano ricami molto strani lo so perché li toccai finché le guardavate le immagini restavano ferme ma quando distoglievate lo sguardo e poi le guardavate di nuovo erano tutte cambiate senta disse il signor cadabra lei non è un tipo impressionabile no non molto risposi benissimo allora posso chiamare il mio cameriere devo però avvertirla che si tratta di un tipo un po strano detto ciò il signor cadabra sbatté la punta delle orecchie contro la testa producendo un rumore come di applausi ma più attutito da un grosso vaso di rame in un angolo della stanza uscì qualcosa che lì per lì presi per un grosso serpente bagnato poi vidi che da una parte aveva delle ventose era il tentacolo di un polipo piano piano uscì completamente dal vaso e stresciò su per la parete e lungo il soffitto reggendosi con le ventose quando fu sopra il tavolo con un tentacolo continuò a reggersi al soffitto e con gli altri sette tirò fuori da un armadio piatti coltelli e forchette e apparecchiò la tavola questo è oliviero disse il signor cadabra è molto più bravo di un maggiordomo perché ha più braccia a disposizione allora cosa le piacerebbe mangiare come primo può chiedere ciò che più le piace sformato di zucca o minestra di spinaci grazie prenderò la minestra non rimasi sorpreso vedendo che il signor cadabra portava un cappello a cilindro mi sorpresi invece quando se lo tolse e ne rovesciò due scodelle colme di minestra che ne direbbe di metterci un po di panna vieni qui teresina una mucchina verde grande come un coniglio salto fuori da una credenza salì sul tavolo e rimase ferma davanti al signor cadabra che munse il suo latte dentro una lattiera d'argento procurata da oliviero la crema di latte era eccellente e la minestra mi piacque moltissimo cosa desidera per secondo chiese ancora il signor cadabra mi rimetto a lei bene allora mangeremo del pesce alla griglia disse lui e poi tacchino oliviero ti prego pesca un pesce e tu pompeo preparati ad arrostirlo ci fu un rumore proveniente dal caminetto e ne uscì pompeo era un piccolo drago dall'aspetto allegro si era appena alzato dalle braci ardenti ed era incandescente mi fece molto piacere perciò vedere che si infilava un paio di stivali di amianto pompeo mi raccomando ammonì il signor cadabra tieni alta la coda se bruci di nuovo il tappeto ti butterò addosso dell'acqua fredda poi aggiunse a bassa voce affinché potessi udirlo solo io naturalmente non lo farei mai è una cosa molto crudele versare dell'acqua fredda su un drago così pompeo si allontano dondolandosi sulle zampe posteriori e tenendo ben alta la coda io ero così intento a osservare il draghetto che non vidi oliviero catturare il pesce quando lo guardai nuovamente stava finendo di pulirlo e lo stava gettando a pompeo che lo acchiappò con le zampe davanti che ormai erano alla giusta temperatura per arrosti cotto a puntino oliviero mise il pesce su un vassoio e ce lo servì caldo e sfrigolante il signor cadabra mi disse un drago può essere di grande utilità per esempio molto meglio di un cane per tenere a bada i ladri non le sembra beh sa signor cadabra mi vergogno un po ma pompeo è il primo drago con cui faccio conoscenza certo che sciocco del resto lei ha già indovinato che io sono un mago no intanto a pompeo era venuto freddo e battendo i denti se ne ritornò tutto contento nel fuoco poi oliviero servì un grosso tacchino arrosto su un gran vassoio di porcellana a questo punto il signor cadabra tirò fuori di tasca un piffero e ci soffiò dentro subito saltarono fuori sei belle salsicce oliviero mandò giù della verdura ma non so da dove la tirasse fuori il condimento invece uscì dal cappello del signor cadabra mentre finiamo di mangiare preparerò un po di frutta disse il mago si alzò e con la sua bacchetta magica batte leggermente sugli angoli del tavolo immediatamente il legno si gonfiò ai quattro angoli e si produssero delle fenditure dalle quali spuntarono dei piccoli virgulti che cominciarono a crescere per quando avevamo finito di mangiare il tacchino i virgulti erano diventate degli alberelli carichi di frutta matura e succosa un albero aveva dei bei frutti dorati che il mio ospite chiamò mangi il luogo adatto per mangiare i mangi è la vasca da bagno mi disse sono frutti così sporchevoli vede hanno la buccia dura e un interno molto morbido perciò quando si rompe la buccia tutto il succo schizza fuori ma adesso io farò un piccolo incantesimo affinché lei non si sporchi il mango era delizioso e più tardi il signor cadabra me ne regalò cinque da portare a casa solo che mi toccò mangiarli veramente nella vasca perché lì non c'erano incantesimi mentre bevevamo il caffè versato dal cappello naturalmente parlammo a lungo di magia di calcio e di cani poi mi disposi a tornare a casa con due delle sue braccia oliviero mi portò il cappotto e mi aiutò a indossarlo ora la porterò a casa disse il signor cadabra ma quando lei vorrà potremo andare in india o in cina o in qualsiasi altro bel posto a passare il pomeriggio me lo faccia sapere quando ha un po di tempo libero ora si sieda su questo tappeto e chiuda gli occhi perché potrebbe venirle un giramento di testa succede quando si viaggia per la prima volta su un tappeto volante montammo sul tappeto e chiusi gli occhi il mio amico dette al tappeto il mio indirizzo e fece sbattere le orecchie senti un soffio d'aria fredda sulle guance e un leggero stordimento poi l'aria tornò di nuovo tiepida e il signor cadabra mi disse di riaprire gli occhi ero nel salotto di casa mia all'altro capo della città la stanza era piccola e il tappeto non potendo posarsi del tutto era rimasto sospeso a mezz'aria saltai giù e ringraziai molto il mago buonanotte disse il signor cadabra chinandosi per stringermi la mano poi fece sbattere le orecchie e il tappeto svanì rimasi solo nella stanza con una deliziosa sensazione di calore e ben cinque mangi in mano come prova che non avevo affatto sognato grazie a tutti Grazie a tutti.